I primi racconti e descrizioni riguardanti il kolukamba, misterioso primato africano diverso sia dal gorilla che dallo scimpanzè, giunsero in Europa in un'epoca nella quale la primatologia era gli albori e le grandi scimmie africane, soprattutto i gorilla, ancora circondate da un alone quasi leggendario. Uno dei primi accenni in merito proviene dal naturalista americano di origini francesi Paul Duchayou, che nel 1856 fu incaricato dall'Accademia delle scienze di Filadelfia di effettuare delle ricerche di carattere geologico e naturalistico in Africa. Duchayou risalì il rio Muni e arrivò al bacino dell'Ogué, compiendo accurate osservazioni sulla fauna delle aree visitate e scrivendo opere per l'epoca di un certo valore scientifico e culturale, ma anche estremamente controverse. Da un punto di vista prettamente zoologico, la parte di maggior interesse dei suoi racconti di viaggio consiste nelle descrizioni dei grandi primati non umani. Non bisogna infatti dimenticare che fu il primo a dimostrare le scimmiei di esistenza del gorilla di pianura, fino ad allora considerato una creatura appartenente al folklore. Ma l'appena sbocciata conoscenza dell'etologia e della tassonomia dei primati africani, probabilmente unita all'incessante desiderio di scoprire cose nuove, lo indussero anche a commettere madornali errori. In un'occasione rimase ad esempio letteralmente sterrefatto nell'esaminare un complesso giaciglio tra gli alberi che le sue guide dissero essere stato fabbricato da uno scimpanzè. L'esploratore non esitò quindi a descrivere una nuova specie, che battezzò Troglodites calvus. Le sue caratteristiche distintive sono le seguenti. La sua testa è calva e di un nero lucente, quasi rotonda, a forma di proiettile. Il naso piuttosto appiattito, le orecchie più grandi di quelle di un gorilla, ma più piccole di quelle del Colucamba e dello scimpanzè. Continuava poi la sua trattazione spiegando che la specie calvus, conosciuta dai locali con il nome di Shiego Mbowe, per contraddistinguere dallo scimpanzè comune, conosciuto semplicemente come Shiego, si distingueva soprattutto per la sua abitudine di costruire giacigli sugli alberi. Ma oggi sappiamo che questo comportamento è comune a tutti gli scimpanzè. Ma come abbiamo visto, nella sua descrizione l'autore cita anche un altro primate anomalo, il Colucamba, a suo avviso confinato nelle regioni montuose del Gabon e del quale disse di aver abbattuto un esemplare. Ci eravamo a fatica liberati dalle formiche quando le mie orecchie furono attratte dal singolare richiamo dell'animale che stavo cercando. Io e Gambe alzammo lo sguardo e vedemmo in alto tra i rami una grande scimmia. Sparamo assieme e l'istante dopo la povera bestia cadde al suolo con un pesante rumore. Mi precipitai ansioso di vederla. Avevo infatti per le mani un nuovo animale. Vidi immediatamente che non era né uno scimpanzè né un gorilla. Questa scimmia, che si distingue dai suoi congeneri per il suo richiamo del tutto particolare, è notevole in quanto offre una somiglianza generale all'uomo per certi aspetti più prossima di quella di tutte le altre scimmie conosciute. È molto rara e sono riuscito a procurarmene un solo soggetto. È più piccola del gorilla adulto e generalmente più robusta del gorilla femmina, ma la testa di quest'ultimo è più grossa. La testa del kolukamba è la parte più rimarcabile. Il volte glabro è tutto nero, la fronte è più alta di quella di qualunque scimmia e la sua capacità cranica, proporzionalmente alla sua taglia, altrettanto maggiore. Il naso è appiattito, gli zigomi alti e prominenti, le guance scavate, l'arcata sopraccigliare ben marcata. In proporzione il muso è meno prominente e più grande di quello delle altre scimmie. Le braccia e le mani sono molto muscolose, l'addome sporgente, come quello del gorilla. Le sue orecchie, molto grandi, somigliano alle orecchie dell'uomo più di quelle di qualunque altra scimmia. L'autore poi continua fornendo anche una spiegazione al singolare nome vernacolare del misterioso primate, dicendo che il vocabolo kolukamba è composto dal verbo kamba, parlare, e da kolu, parola onomatopeica che indica il peculiare richiamo dell'animale. Tuttavia, gli scienziati dell'epoca che ne esaminarono la pelle e il cranio, attualmente custoditi presso il British Museum of Natural History, non riscontrarono vistose differenze con uno scimpanzè del Gabon. Il mistero si riaccese il 21 luglio del 1873, quando Alwin Schoff, direttore dello zoo di Dresda, acquistò una femmina di scimpanzè da un uomo appena tornato dalla bassa Guinea. L'esemplare, che fu battezzato Mafuka, misurava 120 cm d'altezza e colpì molto lo zoologo, che decise di dedicarle un articolo sulla rivista di Zolgesche Garten. Il suo viso non è affatto come quello degli altri scimpanzè che ho visto, di colore chiaro, ma le sue guance sono cosparse di piccole macchie nere. Il suo naso è di colore scuro, quasi nero, ma è impossibile giudicare se la colorazione del suo volto sia un segno di giovinezza o di età matura. Molti di coloro che conoscono gli scimpanzè e li hanno visti con il volto chiaro sono in disputa per decidere se questa differenza dipenda dall'habitat o dall'età. Le reazioni degli esperti dell'epoca, che non potevano ancora sapere che il colorito e le macchie scure sul volto di alcuni scimpanzè facevano parte della normale variabilità della specie, non si fecero attendere. Secondo il direttore dello zoo di Hamburgo, il famosissimo Karl Hagenbeck, Mafuka poteva essere in realtà un gorilla, e tale tesi fu abbracciata anche dal dottor Carnisle, che di recente era riuscito ad esaminare il cadavere di un giovane gorilla conservato all'interno di una botte di liquore arrivato in Germania. Un altro nome di spicco, Alfred Brehm, conosciuto come il Buffon tedesco, si lasciò andare ad un'accesa tirata, specie considerando che all'epoca non aveva mai avuto occasione di vedere un gorilla. Al giardino zoologico di Dresda, che visitai il 28 agosto, capì al primo sguardo che la scimmia antropoide, considerata uno scimpanzè, non era altro che un gorilla. Soltanto Erling Bolau andò ufficialmente controcorrente, dicendo che a suo modo di vedere, Mafuka non era altro che un normale scimpanzè. Oggi sappiamo che la sua tesi, confermata dall'esame delle pregevoli illustrazioni pubblicate da Brehm, era corretta, ma all'epoca i primi sostenitori dell'ipotesi gorilla cominciarono a domandarsi se Mafuka non potesse invece essere un ibrido. Tale ipotesi sembrava confermata dal contenuto di una lettera del cacciatore tedesco Hugo von Kopenfels, che aveva esplorato l'Africa occidentale. Nella missiva che inviò nel 1879 al dottor Meyer, zoologo del museo di Dresda, riferiva che gli indigeni conoscevano molto bene gli incroci tra gorilla e scimpanzè, da loro chiamati Kulukampa, nome chiaramente riconducibile al Kulukamba di Dushayu. Von Kopenfels era anche riuscito a procurarsi lo scalpo, il cranio e due ossa iliache dell'animale in questione, ma anche in questo caso l'analisi dei reperti non permise di rivelare particolari differenze con quelli di uno scimpanzè. Nuovi sviluppi si ebbero nel 1912 quando Henri Neville del Museo di Parigi esaminò un cranio che era stato portato dal bacino del Likowala Mossala, che si estende a est del Gabon. In quest'area gli indigeni parlavano del gorilla e dello scimpanzè, ma anche di un terzo primate chiamato Dedieca. Ecco cosa Neville scrisse in merito. Il Dedieca differisce notevolmente dal gorilla dal punto di vista esteriore per la sua colorazione meno nera e più rossa e per la sua taglia generalmente un poco superiore. La voce di questi due animali è anch'essa differente, il verso del Dedieca somiglia a quello dello scimpanzè, ma la differenza più importante sta nel cranio. Il cranio del Dedieca è infatti sprovvisto di cresta sagittale anche nei maschi, mentre questa cresta è sempre presente nei gorilla maschi e si trova qualche volta anche nelle femmine. Accenni sulla possibile esistenza di ibridi tra scimpanzè e gorilla tornarono ad apparire in letteratura nel 1936, quando Georges Trial pubblicò il suo libro Romando Gorille. Mi sono potuto convincere in più occasioni che la presenza di un gorilla isolato in un branco di scimpanzè, vivente in buona armonia con loro, non è affatto una cosa eccezionale. L'esistenza di un meticcio, che sembra essere esclusivamente il frutto di un gorilla maschio e di una scimpanzè, è indubbia. Questo meticcio, conosciuto nei villaggi degli Eschira con il nome di Kolukamba, somiglia nettamente a uno scimpanzè nella forma, ma raggiunge quasi le dimensioni di un gorilla. Vent'anni dopo, il famoso cacciatore di gorilla, Fred Merfield, pubblicò il libro Gorilla Where My Nakebos, all'interno del quale discusse dell'esistenza di scimpanzè simili a gorilla chiamati Koga. Stando all'autore, questi animali sono descritti come simili a gorilla per quanto riguarda l'arcata sopraccigliare prominente, la cresta sagittale, la pelle nera e le orecchie piccole, ma furono da lui considerati come una rara specie di scimpanzè. Il mondo accademico tornò ad occuparsi seriamente del Kolukamba soltanto nel 1967, grazie a William Charles Osman Hill, che contribuì notevolmente all'evoluzione della moderna tassonomia dei primati. All'epoca Hill aveva condotto gli studi più approfonditi sulla morfologia degli scimpanzè, basando molta parte del suo lavoro su osservazioni dal vivo compiute presso la riserva americana di Holloman. Nella cerchia dei primatologi si vociferava da tempo che nella popolazione della riserva potessero esserci anche degli esemplari di Kolukamba, e Hill decise di descrivere minuziosamente i sospettati. Con qualche discrepanza rispetto ad Ushayu, parlò di orecchie molto piccole, simili a quelli dei gorilla, e di una struttura facciale marcatamente prognata. Le conclusioni dello scienziato furono che il Kolukamba non doveva essere considerato come il frutto di un'anomalia individuale, ma come una ben distinta sottospecie di scimpanzè che decise di nominare Pantroglodites Kolukamba. Secondo Hill, questi animali vivevano solitari o in piccoli gruppi e non in grandi branchi come gli scimpanzè. Inoltre, anche se entrambe le forme potevano abitare la medesima foresta, il Kolukamba era ristretto alle zone montuose del Camerun meridionale, del Gabon e del Congo. In seguito a successive revisioni, le caratteristiche fisiche degli esemplari di Kolukamba descritti da Hill furono inserite nella normale variabilità intraspecifica degli scimpanzè, e la nomenclatura Pantroglodites Kolukamba considerata non valida. Così, per il mondo accademico, la misteriosa terza scimmia dell'Africa occidentale non era altro che una leggenda originatesi dal folclore dei nativi e dalle scarse nozioni di tassonomia dei primi esploratori. Per tornare a parlare di possibili ibridi in natura tra gorilla e scimpanzè bisogna attendere la metà degli anni 90, ma procediamo con ordine. Nel 1898 il colonnello belga Le Marinet donò al museo di Tervuren di Bruxelles tre crani di gorilla che erano stati da lui raccolti presso il villaggio di Bondo, vicino al fiume Huele, in Congo settentrionale. Questi reperti furono esaminati da Henri Schotteden nel 1927 e da lui considerati come una sottospecie di gorilla che battezzò Gorilla Gorilla Wellensis. Questa popolazione fu considerata una sorta di ponte tra i gorilla dell'Africa dell'Est e i gorilla occidentali. Bondo è infatti quasi equidistante dai confini estremi delle due popolazioni, lontane tra loro ben 1300 chilometri. Questo episodio finì però per essere trascurato dai primatologi e all'enigma si appassionò al fotografo e conservazionista svizzero Karl Amman, che nel 1996, al ritorno da un suo viaggio a Bondo, aveva riportato le storie dei nativi che parlavano di grandi e aggressive scimmie che uccidevano i leoni e anche uno strano reperto. Un cranio di scimpanzè proveniente dal vicino villaggio di Bambillo provvisto di cresta sagittale, particolare anatomico fino ad allora considerato tipico del gorilla. Dal 1998 al 1999 allestì un campo base 34 chilometri al nord-est di Bili e furono scoperti giacigli sul terreno simili a quelli preparati dai gorilla e strumenti per la cattura di termiti tipici degli scimpanzè lunghi oltre due metri. Amman considerò così l'ipotesi che forse le foreste di Bili erano abitate sia dai gorilla di Huele che dagli scimpanzè. Inoltre fotografò un scimpanzè ucciso presso Bondo che sembrava eccezionalmente grande per la sua specie. Nel 2001 esperti primatologi, tra cui George Schaller, si recarno al campo base di Amman, ma fallirono nella ricerca di prove sulla presenza di gorilla, localizzando soltanto scimpanzè. Successivamente dal 2003 al 2004 la primatologa Shelley Williams condusse due ricerche sul campo per un totale di circa tre mesi e mezzo. Riuscì nell'impresa di ottenere i primi filmati di uno scimpanzè di Bili in natura e scoprì alcune impronte di piedi a suo dire lunghe ben 34 centimetri, mentre le più grandi rinvenute da Amman erano di circa 30 centimetri. E a questo punto la stampa divulgativa si scatenò letteralmente sia in Italia che all'estero, riportando come fatti informazioni non verificate. Ad esempio Emma Young su di un articolo per il New Scientist e Marco Ferrari su di un articolo per il mensile Focus riportarono mirabolanti dichiarazioni come ad esempio che gli scimpanzè di Bili sarebbero stati i discendenti degli animali cui appartenevano i teschi dell'enigmatico gorilla di Huele, che rispetto ai normali scimpanzè hanno braccia più lunghe, che potrebbero essere scimpanzè particolarmente primitivi, grossi e robusti che fanno giacigli in terra perché sono in grado di difendersi da leoni e leopardi, e soprattutto che le analisi del DNA mitocondriale rivelano un patrimonio genetico a metà tra due sottospecie di scimpanzè. Ma quanto riportato proveniva principalmente da dichiarazioni lasciate da Shelley Williams che inizialmente aveva persino affermato che gli scimpanzè di Bili erano bipedi e alti due metri e che per la sua inclinazione alle esagerazioni fu in seguito allontanata dal campo base di Ammal. Ma ora fermiamoci con la fantasia e procediamo con ordine ad illustrare i fatti basandoci su pubblicazioni scientifiche e non sui si dice. Partiamo dai crani di gorilla raccolti da le marinè, che sono effettivamente crani di gorilla e non di fantomatici antenati di scimpanzè di Bili, ma che purtroppo l'analisi genetica ha rivelato essere troppo simili ai gorilla occidentali per poter ipotizzare una popolazione separata. La spiegazione proposta è che i crani erano stati portati a bondo attraverso scambi commerciali e quindi il gorilla di Huele di fatto non è mai esistito e questo spiega anche il perché non è mai stato trovato. Restando nell'ambito del DNA mitocondriale, peli ed escrementi ritrovati nei giacigli degli scimpanzè di Bili non appartenevano a forme intermedie tra due sottospetti di scimpanzè, qualunque cosa essa voglia dire, ma scimpanzè orientali. Considerando però che il DNA mitocondriale è esclusivo della linea matriarcale, l'irriducibile William si ipotizzò che i grandi scimpanzè di Bili fossero ibridi tra gorilla maschi e femmine di scimpanzè. Però, come abbiamo visto, oggi sappiamo che a bondo non ci sono gorilla. Inoltre, anche se geneticamente simile al punto tale che un'ibridazione non dovrebbe essere teoricamente impossibile, l'etologia delle due specie è molto diversa e non è mai stato documentato né in natura né in cattività un singolo caso di ibrido tra scimpanzè e gorilla. Figuriamoci quindi un'intera popolazione. Dal 2004, per due anni e mezzo, si unì al campo base di Amman il primatologo Tarston Cleveland X dell'Università di Amsterdam, che nel 2010 ha pubblicato lo stato dell'arte sugli scimpanzè di Bili e nonostante la realtà sia stata molto ridimensionata rispetto ai proclami iniziali dei media, contro i quali lo stesso X si schierò in prima linea, ci sono comunque elementi degni di interesse. Ad esempio, anche se sembra ormai certo che gli scimpanzè di Bili sono scimpanzè orientali, la possibilità che possano rappresentare una popolazione morfologicamente distinta dalle altre non è da escludersi a priori. Tra chi promuoveva questa tesi c'era ad esempio Colin Groves, tra i più grandi primatologi della storia, che è raggiunto a questa conclusione dopo l'analisi di 28 crani di entrambi i sessi. Secondo lui, gli scimpanzè di Bili avrebbero crani più grandi, facce più allungate e scatola cranica più larga rispetto alle popolazioni vicine. Morfologicamente si tratta comunque di scimpanzè in tutto e per tutto, e non hanno nulla in comune con i gorilla, se non la cresta sagittale, la quale però è stata documentata su un solo cranio, e forse in un individuo fotografato in vita nell'area di Gangu. Il loro comportamento è inoltre compatibile con quello che si conosce sugli scimpanzè, e le loro dimensioni a livello di popolazione non si avvicinano, come era stato detto, a quelle dei gorilla. Va però sottolineato che non è affatto escluso che alcuni esemplari possano raggiungere dimensioni fuori dal comune, e il team di X ha segnalato il ritrovamento di impronte lunghe 30 cm, anche se la maggior parte di quelle ritrovate erano più piccole. Fu anche indagato il presunto fenomeno dei giacigli costruiti in terra e non sugli alberi. Sappiamo che di norma scimpanzè, oranghi e bonobo costruiscono i giacigli per la notte sugli alberi, mentre i gorilla in questo sono più flessibili, costruendoli sia sugli alberi che sul terreno. Ma le eccezioni esistono anche per gli scimpanzè. Ad esempio è una pratica comune per gli individui in cattive condizioni di salute, ma ci sono anche popolazioni di scimpanzè che costruiscono piuttosto frequentemente giacigli simili a quelli dei gorilla. Per quanto riguarda gli scimpanzè di Billy, il 30% circa dei giacigli sono costruiti in terra, e le spiegazioni potrebbero essere dovute a trasmissione culturale, e non necessariamente al fatto che si tratta di animali che non temono i predatori. Non c'è molto altro da aggiungere se non che oggi gli studi genetici sugli scimpanzè di Billy si sono fermati al solo DNA mitocondriale, e che forse un'indagine più completa potrebbe portare alla luce ulteriori elementi in grado di corroborare le ipotesi di Grooves. E per oggi è tutto, spero che vi siate divertiti e ricordatevi di iscrivervi al canale cliccando sull'occhione e se vi va di seguirmi anche su Telegram e Instagram. Ciao!